Non dite Livorno al Prato, potreste fargli venire brutti pensieri. La squadra bianco-azzurra con i labronici ha preso una libecciata mica da poco, subendo 5 gol nella partita di andata e 3 in quella di ritorno. Poco da fare, la squadra di Francesco Monaco ha dovuto cedere per 3-1 agli scatenati livornesi. La formazione di Foscarini espugna il lungo Bisenzio, interrompendo la striscia positiva del Prato, che rimane impantanato nelle sabbie mobili della zona play-out. L'equilibrio si rompe al 33esmo, Venitucci calibra con il contagiri, Gasbarro di testa trova la traiettoria vincente, Livorno avanti per 1-0. Risposta del Prato con il siluro di Tomi, Mazzoni respinge, Martinelli non è efficace nel tapin vincente. Il gol del raddoppio del Livorno è un gioiello balistico di Galli, super gol e replay, quasi di default, 2-0 per il Livorno. Partita finita, nemmeno per idea. Nel recupero del primo tempo, Tavano, il grande ex, riesce a passare nella difesa labronica e riapre il derby con questa segnatura di giustezza. 2-1 per il Livorno e tutti a bere un teccaldo. Nella ripresa il derby è sempre acceso. L'arbitro sorvola su questo contatto in aria tra Guidotti e Gasbarro, mentre Tavano vanifica una ghiotta occasione. Valiani replica con questa conclusione da fuori, che finisce a lato. La terza rete del Livorno arriva su gentile concessione di Molfetta, che innesca Luci, che trova la traiettoria vincente. Melgrati è fulminato. Il Livorno esulta. Sul 3-1 i labronici passano in gestione del confronto, mentre il Prato, con tanto orgoglio, prova a riaprire la partita senza fortuna. Finisce con la vittoria del Livorno per 3-1. Labronici in piena zona play-off. Prato, invece, che rimette i sogni di salvezza diretta nel cassetto e torna ad assaporare il gusto amaro della sconfitta. La rincorsa alla permanenza in categoria rimane tutta in salita.